presentiamo in fretta il progetto resisto recupero dei sistemi informativi storico artistici io sono la professoressa appunto sono maffè responsabile del progetto e responsabile anche del laboratorio limes che vi ho presentato prima e lui è paolo barontini l'assegnista anche lui ha una formazione idrida particolarmente è stato particolarmente interessante formarlo in questo campo il tema di resisto un tema cruciale cruciale perché soprattutto si è occupato di banche dati prima del primo decennio del 2000 e ha visto morire tutte queste banche dati io e quasi tutti i componenti di questo gruppo avevamo fatto parte di un progetto a lungo termine della scuola normale il centro di ricerca informatica per i beni culturali ha sviluppato tantissime attività proprio intorno agli anni 90 tutte attività che sono morte quindi diciamo è nato in noi come dire il desiderio di creare un sistema che fosse replicabile per il recupero di sistemi informativi contro lo spreco di risorse umane finanziarie ma per restituire come dire alla comunità scientifica alla comunità tutta bene che sono attualmente irrecuperabili in qualche modo e abbiamo prodotto due casi di studio uno medieval art in pisa che era un sito realizzato dalla cooperativa alfea e dalla sovrintendenza bene storici diciamo storico artistici di pisa e la scuola normale alla fine degli anni 90 un sito con centinaia di foto di dettagli architettonici pittorici scultori e di pisa e soprattutto la piattaforma piazza dei miracoli che era un complessissimo sistema in cui confluivano c'era anche una ricostruzione td fatta dal sant'anna una serie di banche dati documentari archivistiche realizzate dalla scuola normale e una serie di schede di catalogo del ministero ccd che potevano essere fruiti in questa piattaforma anche quella irrecuperabile e è stato importante la come dire l'aiuto perché è veramente stato un progetto in cui si sono intersecate tantissime competenze noi storici dell'arte abbiamo dialogato con i tecnici in particolare ringrazio oltre ai finanziatori cioè la società alfea e l'opera primaziale pisana che erano interessati direttamente al recupero di queste banche dati che coinvolgevano dati loro soprattutto le parti tecnici cioè l'informatica umanistica in particolare davide merlitti un grandissimo esperto di informatica applicata ai beni culturali fin dalla sua formazione e l'istituto di scienze tecnologie dell'informazione fa edo del cnr di piso in particolare un gruppo coordinato da paolo barzocchi che si è occupato della parte finale cioè della creazione di una app interattiva per che recuperava i dati e li riforniva anche con realtà aumentata diciamo per una guida del campo santo monumentale poi ci sono altre partner vedete l'università di Udine il palo museale della Toscana la sovrintenza che ovviamente ci hanno molto aiutato anche per il recupero dei dati sostanzialmente il progetto come vi farà vedere Paolo è un progetto tecnico quindi abbiamo preferito farvi entrare proprio nel sistema vi dico solo che se volete consultare i dati sono già liberamente accessibili nel sito di Resisto lo cercate attraverso il sito del laboratorio Limes a due o tre pagine dedicate al progetto e poi ci sono i vari link a tutte le attività che abbiamo fatto anche con i nostri studenti perché il progetto è stato un cantiere aperto degli studenti che hanno partecipato a varie fasi fino all'ultima appunto quella del test all'interno del campo santo e quindi è stato particolarmente utile per come dire anche introdurli in questo tema il tema appunto se ne parlavamo prima della formazione di queste anche categorie ibride ecco lo passo ok veloce allora come come già anticipato la dottoressa Maffei lo scopera quello di affrontare il problema della obsolescenza digitale in modo da garantire la preservazione digitale di questi due sistemi obsoleti inizialmente questi due sistemi si presentavano non operativi non funzionanti in quanto la tecnologia utilizza i tempi si parla a fine anni 90 2000 ad oggi non era più sopportata e l'obiettivo appunto della prima fase era quello di ripristinare le funzionalità di questi sistemi e insieme al dottor Merlitti informatico manistica ci siamo riusciti ci siamo riusciti attraverso l'utilizzo di una macchina virtuale cioè un programma che permette di simulare il comportamento di un pc o di un server e simulando appunto l'ambiente che utilizzava la tecnologia di di allora si è stato in grado di rimettere in funzione i vecchi sistemi dopodiché poi nel rispetto di sviluppare una piattaforma che utilizzasse non tecnologia non proprietaria quindi file di formato libero perché c'erano dei file tipo vma di windows o appunto mov di apple li abbiamo trasformati in mp3 per i file audio e mp4 per i video in modo tale che qualunque piattaforma potesse riprodurli poi ovviamente abbiamo fatto un lavoro di estrazione dei dati delle opere all'interno di ciascun sistema abbiamo estratto i dati dalle schede catalografiche di piazza dei miracoli che utilizzavano standard iccd mentre invece per quanto riguarda media valarte ci siamo noi estratto invece i dati dal sito di divulgazione che era si stava semplicemente un sito statico e quindi non aveva nessun database questo era per quanto riguarda il la prima la prima fase la seconda fase invece riguardava che questi dati che sono stati recuperati nella prima fase dovessero essere inseriti all'interno di un repository un database in questo caso l'abbiamo utilizzato no sql e abbiamo utilizzato appunto mongo db per assicurare la preservazione a lungo termine di questi dati successivamente questi dati poi sono stati caricati su una piattaforma web in linea con le tecnologie e framework attuali sullo sviluppo web sia lato client e server ne cito alcuni react js apollo e graphql e l'impresa ardo diciamo di questa fase è stata quella di far coesistere questi due sistemi perché in origine questi erano due progetti assolutamente indipendenti e quindi il fatto di poterli fare comunicare nella ricerca di informazioni è stato quello diciamo il lavoro più ardo ma importante e la piattaforma come già detto dottoressa maffei è online e quindi potete tranquillamente esplorarlo l'ultima fase invece la terza e collaborazione come già anticipato è stata realizzata con la collaborazione del cnr col dottor barzocchi e la sua squadra e si basava sulla sullo sviluppo di un'applicazione per dispositivi mobili che permettesse sulla base sempre dei dati recuperati di poter fruire contenuti delle opere costruite all'interno del camposanto monumentale con loro è stato possibile sviluppare un'app prototipale che permettesse sulla base della potenza del segnale bluetooth che ripartiva dalle dai beacon bluetooth installati su ciascuna opera di individuare tramite lo smartphone sui supporti che erano in grado di attraverso l'applicazione che con un algoritmo di ranking di individuare quali erano le tre opere più vicine al visitatore e di poter visualizzare i contenuti di ciascuna scheda dell'opera per un meno importante questa applicazione è stata sviluppata anche per poter essere integrato l'utilizzo di smart glasses ovvero di occhiali realtà aumentata quindi quindi questi occhiali il visitatore poteva indossando sempre questi occhiali selezionare una scheda e allo stesso tempo poteva vedere di fronte a sé l'opera che aveva davanti e al lato della lente la scheda dell'opera che stava visionando sul momento e sintetizzare per concludere quindi ribadisco diciamo tre aspetti principali dei risultati del progetto è open sì perché appunto non abbiamo utilizzato alcun formato proprietario ed è assolutamente indipendente dal sistema di origine e questo risponde ovviamente anche alla seconda domanda perché noi abbiamo l'unica cosa che abbiamo recuperato appunto dei sistemi d'origine sono i dati della struttura dei sistemi dei siti non ce l'abbiamo tralasciato perché l'abbiamo ritenuto non rilevante e per ultimo anche questo ma non per importanza se è replicabile assolutamente sì perché il sistema resisto è stato concepito e sviluppato per essere un contenitore di dati i quali nonostante la tecnologia e l'ambiente e struttura iniziale differente è possibile che con un lavoro di conversione di poter rendere questi dati nuovamente fruibili e ricercabili contemporaneamente all'interno di questa nuova piattaforma e questo è tutto se ho quanto tempo ho ancora a disposizione lascio la dovrei fare al volo a far vedere qualche video di quello che è stato fatto ecco questo video fa vedere come il sito piazza dei miracoli tornato operativo era possibile tornare a fare delle ricerche sulle varie opere che erano immagazzinate all'interno del database ora scorro velocemente scusate ed era possibile visualizzare le schede sia sintetiche che potevano essere diciamo più facilmente comprensive per il visitatore generale oppure in questo caso si può vedere le schede diciamo più specializzate quelle del catalogo quindi per chi è addetto ai lavori tra l'altro e questo è stato anche questo un lavoro abbastanza faticoso quello di rimettere in funzione addirittura la sezione 3d ovvero c'era questa mappa 3d che permetteva di vedere nei secoli lo sviluppo la costruzione di piazza dei miracoli e si poteva vedere attraverso varie angolazioni certo si poteva addirittura col mouse visitare la piazza questo invece media valarto pisa anche questo lo faccio vedere dopo che è stato tornato stato riportato in in funzione e questo si nota ovviamente la differenza si tratta di un di un sito statico che riporta appunto le varie schede delle delle opere degli autori ma anche delle metodologie di realizzazione delle opere cosa carina appunto che di questa piattaforma era questa mappa interattiva dopo cui era possibile posizionare le gli edifici e cliccando su di essi era possibile consultarne il la scheda ci si cliccava appunto e l'opera la scheda era consultabile l'ultimo video sono sempre in tempo già posso fare questo invece è resisto e come potete vedere tutti i sistemi sono integrati sono quello che è online siamo riusciti a rendere incercabili tutti i dati all'interno di questa questa piattaforma resisto e è possibile una cosa che siamo riusciti a fare è l'utilizzo di faccette ovvero di filtri che divisi per categoria rendono più facile la consultazione potete vedere per esempio i filtri tramite oggetto autore secolo e via discorrendo ma la cosa anche questa cosa bella che siamo riusciti prima di tutto a utilizzare riproporre la mappa interattiva che ho fatto vedere precedentemente non solo il sito è anche responsivo quindi si adatta a qualsiasi tipo di dispositivo mobile ma inoltre è il sito è anche una pv a ovvero è possibile installarlo sul proprio dispositivo qualsiasi sia android o apple perché le app pv a sono lavorano indipendentemente dalla piattaforma sono molto più leggeri ma soprattutto lavorano offline ho concluso